Un piccolo passo avanti per il Lecce e Spezia. Lo 0 a 0 al Via del Mare Porte Gialorossi a 33 punti, mentre per i Aguilotti lasciano il Verona da solo al terz'ultimo posto, salendo a un punto sopra a quota 31 e condanna la Cremonese per la terza retrocessione. Lotta ristretta a Lecce, Spezia e Verona. Squadre coperte e poche occasioni. Più propositivo lo Spezia, con Zola, che conclude fuori. Scorbuto che esita ed esposito che calcia alto una punizione. Nella ripresa, Zola di testa manda sull'esterno della rete. Per il Lecce, strefezza calcia ma centrale. Nel finale, Ambudu ed Erkald murati dai difensori. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!